Oggi inauguriamo insieme una nuova rubrica video, ovviamente con me, la vostra Sabrina del Ceneocchio. Disney, tutti conoscono il celebre studio cinematografico fondato nel 1923, ma oggi ne esploreremo un lato scuro, la fase dark degli anni 70 e 80, caratterizzata da scelte insolite, tematiche più adulte e incasse altalenanti. Quando George Lucas iniziò a scrivere Star Wars nei primi anni 70, la saga spaziale avrebbe dovuto, nelle intenzioni, andare a riempire quel vuoto lasciato dal western, dai film sui pirati e dalle fantasie sci-fi dei vecchi serial mattutini. La Disney ha abbandonato il suo posto sul trono del mercato dei bambini, disse Lucas, secondo il libro di Peter Biskin Easy Riders Ranging Bulls, e nulla la rimpiazzata. In effetti, la Disney era uno dei tanti studio hollywoodiani che Lucas aveva contattato per Star Wars e che, proprio come la Universal, la United Artists e tanti altri, aveva rifiutato di produrre lo script. Quasi tutti lo respinsero, tranne Alan Ladd Junior, a capo della 20th Century Fox. Il pensiero comune era che la fantascienza fosse un vero e proprio veleno per i botteghini. Questo è un film della Disney, disse al tempo Lucas. Tutti i film della Disney incassano circa 16 milioni di dollari, quindi questo film farà 16 milioni. È costato 10 milioni, quindi andremo sicuramente in perdita al momento dell'uscita, ma spero di rientrare un po' grazie ai giocattoli. La previsione di Lucas era completamente sbagliata. Star Wars raccolse infatti più di 400 milioni di dollari alla sua uscita. Insieme al merchandising, il film di George Lucas non fu niente meno che un fenomeno globale. Il tipo di successo che lasciò gli altri studi di Hollywood a raschiare il fondo del barile per i personari progetti sci-fi. Aver rifiutato Star Wars deve aver indotto molto più di un esame di coscienza alla Walt Disney Productions. Per gran parte degli anni 70, la loro produzione di film sembrava essere entrata in un periodo di depressione. Mentre i film di animazione come Robin Hood o Le avventure di Bianca e Bernie furono un successo, i live action come Pomi Lottone e Manici di Scopa, oppure Il mistero del dinosauro scomparso furono deludenti al box office. Ironia della sorte, il modello di scherettro di dinosauro proveniente da quest'ultimo film, che era rimasto dalle riprese agli History Studios, è finito per essere usato come sfondo per i set in Tunisia di Star Wars. D'altra parte, un pubblico più giovane, in particolare i teenager, era alla ricerca di intrattenimento più sofisticato. E mentre Lo squalo e Una nuova speranza facevano record di incassi, i film dal vivo della Disney andavano sempre più in disaccordo con i gusti della gente. Per questo motivo, alla fine degli anni 70, la Disney intraprese un nuovo approccio al film making, sfociato in una serie di pellicole che per gli standard dello studio risultarono insolitamente dark. L'ex giocatore di football, Ron Miller, assunse il ruolo di presidente della Walt Disney Production durante uno dei suoi periodi più turbolenti. La società si stava ancora riprendendo dalla morte del suo fondatore Walt Disney nel 1966 e di Royal Disney nel 1971. Miller, che era genero del primo, lavorò come produttore sin dagli anni 50, infine come un professore a tutto gas e FBI Operazione Gatto, che fu anche un breve tentativo di avviare una sua carriera d'attore presto stroncata sul nascere da Walt. Come descritto nel libro di James B. Stewart, Disney War, Miller si scontrò ripetutamente con gli altri dirigenti, discutendo in merito al futuro della società. Non ultimo, Esmond Cardon Walker, l'amministratore delegato dello studio. Miller da tempo voleva realizzare più film per un pubblico adulto, ma Walker odiava l'idea, sostenendo che questo avrebbe leso l'immagine pubblica della compagnia. Tuttavia, l'uscita di Star Wars sembrò un punto di svolta in quanto nel 1979 Miller stava proprio parlando apertamente di una ristrutturazione creativa per la House of Mouse. Ve lo dico io candidamente, disse Miller a Sterlog in quegli anni. Sembra esserci un limite ai nostri prodotti. La faccia di età alla quale solitamente facciamo appello non ci garantirà le grandi presenze che gli altri studi riescono a ottenere. A tal fine la Disney iniziò a lavorare sul film più costoso della sua storia, The Black Hole, il buco nero. I lavori per l'avventura sci-fi cominciarono a metà degli anni 70, partendo come racconti inedito dal titolo Space Station One. Per anni il progetto aveva continuato a rimbalzare tra gli uffici della Disney, con i sceneggiatori che andavano e venivano e con il titolo che cambiò da Probe One al definitivo The Black Hole. Non fu fino a gennaio del 1978, però, che la produzione iniziò sul serio e a questo punto Star Wars aveva ormai creato un solco di dimensioni planetarie attraverso la coscienza pubblica, per cui la sci-fi era improvvisamente il genere più amato. Il budget di 20 milioni di dollari all'ora immenso per The Black Hole non fu l'unico precedente che il film creò. Infatti fu il primo film targato Disney a guadagnarsi un rating PG. Questo potrebbe non sembrare una grossa cosa oggi, ma a quel tempo era piuttosto inconsueto. Tradizionalmente la Disney attuava la politica di distribuire solamente film G-rated, cosa che li marchiò in modo rigido. Per fare un esempio, quando la pellicola del 1950 L'isola del tesoro, Treasure Island, venne distribuita nel 1975, una ferita causata da un proiettile, venne tagliata proprio per evitare il rating PG da parte della MPAA. Con The Black Hole, la Disney, o in ogni caso Ron Miller, stava effettivamente spingendo un film provocatorio. Molto prima che venisse terminato, cast e troupe discutevano di quanto Black Hole fosse diverso da qualunque precedente film della Disney. Immaginate, disse una truccatrice con l'intenzione apparente di catturare l'orecchio di un giornalista. Un film Disney PG-rated. Non penso che ci sia qualcosa in The Black Hole che offenda qualcuno, raccontò Miller a Sterlog, prima di aggiungere che non sarebbe stato un problema se avesse ricevuto una rating. Se è un buon film, disse Miller con fiducia, avrà successo indipendentemente dal visto di censura. Non tutti, però, erano felici della nuova linea Disney. Miller ammise di aver ricevuto lettere da persone che erano preoccupate che The Black Hole sarebbe diventato una sorta di macchia indelebile sulla memoria di Walt Disney. «Abbiamo ricevuto un sacco di lettere e ne riceveremo molte di più», confidò Miller. «Ne ho ricevuta, per esempio, una da un medico, una donna, e un paio di giorni dopo dal marito, o forse dal figlio, che diceva che sperava un flop della pellicola». Quello per cui il pubblico poteva non essere preparato, quando The Black Hole uscì nel dicembre del 1979, era però il suo aspetto da incubo. Anche se prese enormemente spunto dal vecchio adattamento Disney di 20.000 leghe sotto i mari, compreso il protagonista Maximilian Schell che interpretava un viaggiatore centrico su di un vascello bisantino, The Black Hole era notevolmente più dark e più surreale di quella favola interstellare che ideò George Lucas. I timori di uno script sboccato erano lontani, solo pochi Dunn e Hell. Ma i cinefili si trovarono invece di fronte a una scena in cui Anthony Perkins muore orribilmente per mano di un robocolor cremesi. Poi ci sono droni simili a zombie in maschere cromate e un finale davvero stravagante che si svolge all'inferno. The Black Hole da allora diventò un cult, ma fu tutt'altro che un successo commerciale paragonabile a quello di Star Wars. E ovviamente i dirigenti Disney notarono che questa strampalata pellicola fantascientifica avesse reso molto meno di Herbie, un maggiorino tutto matto del 1978, una commedia realizzata con un budget molto inferiore. Nonostante ciò, Ron Miller continuò il suo interesse come produttore nel portare avanti i progetti più dark alla Disney. Il libero adattamento Gli occhi del parco ci fece immergere nel puro oro orgotico, con una famiglia americana che si trasferiva in una casa padronale britannica infestata da presenze maligne. Con un cast eccellente, tra cui Bette Davis e David McCullum, il film fu afflitto da diversi conflitti nel dietro le quinte. Miller si scontrò spesso con il regista John A. E il film finì per essere ritirato e distribuito nuovamente con un altro finale. Nella sua forma rielaborata, poi, Gli occhi del parco era strano, con molti dialoghi e interpretazioni da sonnamboli, e perfino la Davis, che di solito dimostrava una presenza di scene imponente, qui sembrava Giudicorda. Ci sono momenti bizzari all'interno del film, e gli angoli di ripresa dal basso e alcune inquadrature attraverso i boschi nebbiosi sembravano uscire dalla casa di Evil Dead di Sam Raimi, che arrivò in sala l'anno successivo. Anche la colonna sonora di Stanley Myers aiutò in tal senso. I toni horror di Black Hole e di Gli occhi del parco furono poi ripresi in Il Drago del Lago di Fuoco, Dragon Slayer, un film fantasy con alcune splendide sequenze animate da Fit Tipper. Dragon Slayer fu la seconda joint venture tra Disney e Paramount, che avevano in precedenza unito le forze nel costoso Popeye Braccio di Ferro di Robert Altman, il cui risultato fu un racconto sorprendentemente grintoso di un uomo contro un serpente gigante. Se la Disney aveva ricevuto numerose lettere per The Black Hole, possiamo solo immaginare quello che la gente poteva aver pensato della scena di morte e di sacrificio umano di Dragon Slayer. In una sequenza iniziale, una giovane donna lotta con le catene per quella che sembra essere un'eternità. Il suo sangue le scorre dai polsi mentre un drago si avvicina per ucciderla. Pensiamo che possa farcela, che possa sfuggirne, ma invece no, viene carbonizzata dal respiro infuocato della creatura. Dragon Slayer fu tutt'altro che un successo, ma rimane un'opera superba per il suo aspetto e per il mostro di Tippet, Vermitrux pejorative, che è uno dei pochi draghi veramente imponenti mai visti sul grande schermo. Gli altri film live action della Disney dei primi anni Ottanta furono senza dubbio diversi nello stile e nell'approccio rispetto alle pellicole che avevano prodotto fino agli anni Sessanta. Il Diavole Max, The Devil and Max Devlin, era una commedia di fantasia interpretata da Elliot Gould e Bill Cosby. Fuga nella notte, Night Crossing, interpretato da John Hart e Bob Bridges, era invece un dramma su una famiglia che cercava di fuggire dalla Germania Est. Mai gridare al lupo, Never Cry Wolf, per la regia di Carol Ballard, era infine un dramma sui lupi artici. Condorman era una commedia in anticipo sui tempi su uno scrittore di fumetti, Michael Crawford, che diventava un supereroe alato. Anche Tron di Steven Lisberger, che sulla carta doveva essere un'altra avventura per famiglie ricca d'azione, adottò un approccio audace caratterizzato da CGI innovativa e scene colorate da disegni astratti che non sarebbero affatto state fuori luogo in una mostra d'arte contemporanea. Anche in questo caso, il film non arrivò ai livelli di Star Wars, ma il suo tentativo di catturare l'età dell'oro delle serie giochi si guadagnò in seguito molti fan. Per la seconda puntata della fase dark di Disney, ti aspetto la settimana prossima!